In due parole, descrivici la tua carriera, come hai iniziato questa avventura motociclistica? Ho cominciato due anni fa con le mini moto, poi sono passato nella mini GP e l'anno scorso ho fatto il debutto nel campionato italiano. Sacrifici e difficoltà, come riesci a conciliare l'impegno delle corse con i tuoi studi? Prima, al primo posto c'è lo studio e poi ci sono le moto. E i tuoi genitori, la tua famiglia, come si è dimostrata verso la tua passione sotto certi aspetti anche pericoloso? Si è dimostrata molto bene perché mi ha lasciato sempre correre. Un pilota modello per te? Valentino Rossi e Gianni Strua. Qual è se c'è il circuito che preferisce e in cui ti senti imbattibile? Pomposa, Binetto, Caltaghena, Valencia. Considerata la tua esperienza, cosa considerai se è un ragazzo che voglia intraprendere la tua stessa carriera? Considerai di iniziare con le moto più piccole e poi passare sempre a due livelli. Il tuo obiettivo per il campionato 2010? Vincerla.